Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di QuelTaleale, eccoci qui di nuovo con Dragon Age The Veilgard Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi nell'ultimo appuntamento insieme a Bellara eravamo andati a recuperare il maestro Che si è venuto ad aggiungere nel nostro gruppo, il mago sostanzialmente, ha portato anche il suo assistente Poi andiamo a... dove si è piazzato tra l'altro il mago? Ok, qui nell'angoletto Mo' ci andiamo a parlare con Emric, Bellara non gli dobbiamo dire niente, dobbiamo andare a parlare con Neve Lui ci darà Darwin una sua missioncina, allora andiamo a parlare innanzitutto anche con... Che è Harding, anche dobbiamo parlarci, adesso dobbiamo andare a recuperare anche l'ammazzadraghi Ce l'aveva detto Harding per l'appunto, mo' ci andiamo, vediamo che ci dice nel mentre Ho visto che tu scrivi un messaggio al Inquisizio? C'è quello? Vedi che io e Varic eravamo parte del Inquisizio, certo? Sto cercando di ottenere informazioni sull'estate Ma Charter non ha risposto a alcuni dei messaggi, sto cercando di non rispondere a ciò che sta succedendo là, ma... Non, probabilmente è ok. Charter è solo bambina, è sempre bambina Charter? Chi è quello? Chiediamo, Peppino l'Inquisitore E' stato un'intenzione. Quando il briggio era abitato, abbiamo bisogno di una grande gruppa per impedire a Southerne Thetis di fallere in caos. Ha cambiato in anni, siamo una forza più piccola lavorando sotto la terra per mantenere un attenzione su cose che succedendo nel mondo Per sapere Ma noi siamo bravi Ci comportiamo sempre bene Per sapere C'è un po' di un'interno di inquisitor Mi sposte più tempo con le persone che non ho parlato Ma tu conosci i persone che da un interno di inquisitor Non ti conosci? C'è un po' di loro Ma in quei giorni, tutto quello che volevo Era provare a me stai E non andare in un'altra parte alcuni di loro erano più... approcciabili da altri la maggior parte del tempo io solo li guardavo da fuori ascoltavo i loro snippetti di conversazione mentre passavano chiediamo chiediamo pasticceri? chiediamo i pasticceri? la saggezza la saggezza la saggezza la saggezza la saggezza la saggezza l'inquisizione è diverso da ciò che abbiamo costruito non è meglio o meno ma... è speciale quando sei tra persone lavorando alla stessa non tutti c'era Solas cosa pensi di lui? lontano sempre sembra lontano è difficile non essere tu quando si guarda su tutti altri mi dispiace per lui diciamo che ha la sua missione? no, è un imbecille no, Solas perché poi non ce lo ricordiamo però è lui adesso è la storia di... della nostra rockstar Solas non mi dispiaceva come personaggio cioè ce lo portavamo spesso a fare Maracchiello in giro vabbè per chiacchierano va bene va bene ogni tanto una chiacchiera ci sta coi companion eh, sennò che stiamo a fare bisogna fare gruppo bisogna fare gruppo allora allora c'era di fronte c'era Darwin non mi ricordo no, c'è Bellara che però non non ha niente da dirci e... vabbè qua pure lui non credo ci possiamo accarezzarlo vai così con quale e... arroganza il nostro gino e... andiamo a parlare con Darwin ma... c'è la sua missione secondaria immagino al momento ne abbiamo fatte solo un paio solo di Harding e Bellara ok versione acquisita si poi ogni tanto inframezziamo anche con queste secondarie però un po' di principali di seguito le vorrei fare ehm ehm sei pronto sei pronto sei pronto un quale stivale non puoi dormire? so sono... sono pronto per chiedere ho dormito quando posso e... questo posto è... troppo quieto per questo non c'è non cattoli non cattoli non cattoli non cattoli non cattoli ma cattoli che cattoli guardano che cattoli nemmeno che funziona come dormi? non so chiace il ragazzo tra il ragazzo ti saluto ovviamente potresti ti uccicurare un nuovo e infatti per sé Ma di solito non ne dormiamo bene in realtà Abbiamo i capelli morbidi quindi Guarda io posso fare le ore piccole Eh cascano tutti i suoi piedi Che vuoi fare Lo so lo so hai il capello Fa questo effetto Fa questo effetto Allora aspettate che ogni tanto Recappiamo Vabbè andiamo a parlare anche con Che adesso pian pianino devo memorizzare anche il suo nome Perché naturalmente Darwin ok riusciamo È facile Perché non ci ricordiamo di Darwin Evoluzionismo eccetera Guarda questo posto un tempo qui ci organizzavamo Una ribellione Dicemmo che avremmo cambiato il futuro degli elfi Rovesciato tiranni e lo facemmo davvero Ora la via verso l'esterno è frammentata Sarà dura ravvivare tutti gli eluvian Solas se vedi questo messaggio Ti cercherò In questo mondo E in quello mortale Non causare troppi problemi Prima del mio arrivo Siamo andati giusti Io credo proprio di no Infatti No Direi proprio di no Vabbè Facciamo quindi così Buonissimo Quindi da dentro ci passiamo La prima o la seconda Eh? La prima La prima Dobbiamo riorientarci ogni tre secondi Per questo Un po' di ragnatela però da togli È stato da metà posto ma Bravo Manfred L'ha fatto un te Splendido È aspettatamente comodo È meglio con un mago esperto Attenzione Guardalo Ci prova Credo che lo piace meglio con un necromancer Nel posto Ando a goio a goio Especialmente uno con esperienza Deve essere sicuro di vivere Aspetta Non ti preoccupare Forse qualcuna È così Non ti preoccupare Non ti preoccupare Ma alcune persone Non potrebbero capire Oh Ho sperato di rendere una buona impressione Bellara ha accettato di essere qui Tutti altri Ha solo bisogno di conoscerti Vabbè Vabbè Manfred e io Dobbiamo finire il nostro inventario Grazie Non ti preoccupare Non ti preoccupare Guarda come si Ma si Con le comunicazioni Noi proviamo a destra e a manca A chiacchierare Vediamo Che a volte ci escono Delle Chiacchierate Divertenti E Ci da direttamente anche La sua mission Vediamo Ci stiamo Ok Vabbè Non adesso Come detto Voglio proseguire un pochino Con la missione principale E poi ci recuperiamo anche Qualche Qualche secondaria Non c'è Fretta La Fretta La Mission Al momento Andiamo a recuperare L'ammazzadraghi Che ci serve Voi mi raccomando Come sempre Ragazzi Lasciate Like E commentate Per supportare Questi video Modifichiamo il gruppo Questa volta Ci portiamo Harding Che Insomma Con l'ammazzadraghi Era lei Che ci ha dato La dritta E Pupupupu Sì dai Facciamo così Emrick Che comunque Indebolimento E frantumazione Combo La combo Loro ce l'hanno Raggiungi la missione Segui Possiamo Raggiungere Direttamente la missione Seguita Facciamo così Aridagliela C'è una Della fortuna Lungo La costa Di Rivian Ma perché Dove cazzo Mi stavo Facendo andare Scusa Vabbè Magari L'asolo Per arrivare Al crocevia Può essere Così ci arriviamo Direttamente In zona mission Mi viene Rivian Quella Interessante Mi sembra Un cazzolo Salve No 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 Tosh Rook Sì Rook Sento che hai bisogno Sì 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 Vabbè Tanto se dai le asciate così Noi siamo più Cioè ci passano so Non credo che No Ho più a non tagliarci i capelli Sì Sì Ah vedi Sono organizzati Aspetta Io faccio un po' di Attività fisica Aspetta Aspetta Non lo posso fare io Non si rompe Eh vabbè ma mica Mi posso portare così Che cazzo ne so di ci serve Ma magari lo sai Alla prossima Non è vero perché alla prossima che torneremo qua ce ne scordiamo Va bene non fa niente Va bene uguale Eh Eh ho visto Però altanto ci stai tu che è sempre potente Rubiamo che ci lancia la mia Le vado di te Non pare L'attacco Schilloso No 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 ma è che ho preso Si capisce una sera No Siamo capitati lungo il muretto che Non si vede niente Dove si tocca? No 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 Stiamo dando cazzo a cazzo totalmente Non riesco a distinguere lei dai nostri nemici tra l'altro Aia e basta Non riesco a liberarti Non riesco a liberarti Un po' di salure E E E Basta ste palle di fuoco Nei coglioni Aspetta Favano eliminare il nostro figlio di puttana Direi Red Comin' Re Un 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 Mamma, mamma, non guardare la cosa. Ehi, vieni. Quindi non hai problemi a combattere altri kunari? Sono da Raveyn. Non mi sembra che seguo il cuore. Hai le raccoglie. Si, ho portato molti cose. Non mi potrei raccontare a chi mi sono. Non importa, comunque. Inoltre, l'Anton non seguono il QN. Non ancora. Quindi cosa vuoi fare lavorare con noi? Non. Pensavo che ci vuoi essere qui per aiutarti. Non. Non ci siamo fatti. Ehm... No. Vinsomers eat big game. Usually sea life. They're not hostile unless you do something stupid. Like poke around in its lair? Right. So we lure her out. Then the lords go in and grab anything shiny. But you do kill dragons, right? You're a dragon hunter. I kill them when they need killing. This one doesn't. Eh... Allora, palanino gemello. Più quattro ira quando uccidi. Non male, ma... È una scorciatoia questa? Sì, era una scorciatoia. E non posso ripassare di là? Cazzo, no. Sì, invece. È semplicemente, vedi, questa cazzo... Cosa che, cazzo, è sempre lo stesso. Rischi di saltare con un imbecille invece di fare quello che devi fare. Eh... Passiamo di qua, eh? Ma scusa, là il muro era chiuso. Così. Così. Tacco punta e via. All right. Beach is up ahead. Right. You said we find Bae here? Bae will find us. Come on. How? Look, deep stalkers! Knew they'd find us. The deep stalkers are the meat? Yep. Why are you making me feel sorry for them? Sì. Oh, e poi va. Bello pure rilanciarlo in... Tacco punta così. Quando torna... Bam! Bellissimo. 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 Adesso. Bellissimo. Se uno è grande, attacchiata. Quello è il suo pacito. Si è forte, attacchiata. Edempia, bruciata. Allora. Pazione il suo pacito. È la mia tara. Non so. È la mia parte. No. È il suo pacito. È la mia parte. È la mia parte. È la mia parte. Aspetta Tu vai con questo E' un'altra prima la guardia E' resiste, resiste E' resiste a pararlo E' troppo veloce E' troppo lento Aspetta, fammi recuperare i cosi Fatemi recuperare Un po' di pozioncine Adesso, stiamo cercando di prendere i monstri di Dio e i loro draconi Questo non è vero I draconi non sono draconi Sono smarti enough per evitare questa scuola Ma che succede, i Dio si usano la draconi per forzare i draconi per attaccare le persone Questo è messo Alguien ha bisogno di stoppare Allora, un attimo Un po' di squacquerone Ho preso quello che dovevi prendere Ti può? Eh, però vuoi cosa da prendere là Ma era già partito Ah, quindi There you go A Toskari O'odio Where are we headed? That old grey warden fort Anton might be there I wanna see what they're doing If it's anything the Lords of Fortune need to worry about She responds to the horn? This time You've fed her before then? It took a while to get her used to it Sounds like you've got her trained You trained a dog richi non stai con il drag scusate non era uguale aspetta è una sciata e sapiamo allora pagina diario di diario solitaria carne di giorno 4 cielo terzo caldo e umido ho trovato altre tracce d'oro nei corsi d'acqua più bassi domani proverò a scalare le scogliere in alto fiuto un filone ed è bello grosso ho rivisto gli antam ma evitarli è facile aspetta che arrivo no non ci scendete arrivo io arrivo per accattare ma per arrivarci però in teoria si apre da questo lato apparentemente giorno 5 cielo terzo raffiche di vento ho provato a scalare le scogliere sopra il ponte ma ho messo un piede in fallo e credo che si sia rotto qualcosa è una pattuglia antam potrebbe avermi notato troverò un posto dove nascondermi finché non riuscirò a tornare al mio accampamento beh sotto le cascate c'è sempre qualcosa fermaglio ingioiellato non solo allora gli antam sono qui fuori se dovessero trovarmi di il resto è troppo intriso di sangue per risultare leggibile credo quindi che l'abbiano trovato ti dirò a naso che aspetta quell'altro cos'era? no c'era l'amoletto si com'è che non ho obbiato quello? forse andando là usiamo quello per aprire questa e per ritornare qua possibile però sicuro che io posso andare là in questo modo devo passare da tipo se rompere questo muro o forse è il contrario passando da lì si restipola non è possibile è da là che forse qua poi si entra là dentro non so ovviamente non so che dirvi però qua è chiuso e là non ci posso neanche andare a meno che ma non credo ci passiamo da sotto oh tutto può essere no per te sti cazzo dove vorrebbero guardare non ci si è un'estrua niente Oh, qua arriva Eeeh, 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 eeeh Quale potrebbe essere bellissimo Dobbiamo ripassare da La cosa, però non Ci ha specificato Quello sta girato da sto lato Però pure quelli già stavano girati da sto lato Applica sbilanciamento elevato in un'area Quando si usa la pozione, venti si arraggia D'effetto le pozioni, ok, questo lo usiamo Anche perché ci dà più cura Eh, vedi, stanno Sta verso sto lato, quindi In linea teorica, no? Ah, no, eccoli qua dove stavano Bastardi Questi due che si guardano E' quello che guarda il muro, ok Va bene Allora, quello è il muro va bene Questi due Se guardano Perfetto Stare che le fanno in giro un attimo Attenzione Eh, ci sta che fai Non ne approfitti Ok Ah, c'era anche una scala Potevamo evitare di fare un giro Allora, la difesa aumenta Quello è una resistenza a fuoco Ok, però la difesa aumenta di parecchio Quindi comunque lo metto Sì, ci aveva fatto scendere la scala Ci siamo rifatti il giro Va bene, è uguale Va bene, è uguale Viene là Quindi non ci arriviamo E ci proviamo No, non ci arriviamo Non ci arriviamo Va bene, va bene No, non ci arriviamo Ma se è martellato Grazie a tutti Allora, pure voi fate un attimo Qualcosa di incazzoso Per piacere Ok Eh, che cazzo Non utilizzabile Il compagno è attualmente Non è disponibile Perché che cazzo Aspetta, no, si deve ricaricare Scusate, errore mio Non avevo visto la barra di caricamento Là sotto Giusto? No Ma vaffanculo Allora Eh, se non lo apre così Non c'è modo Ti devo dire Se non lo fa così Si deve fare così Ma non ce lo fa fare Se non lo vuoi che ti diga Voglio cuore Oh, questa è quella che ci abbiamo adesso Piazza provocatoria Più tre Involucro della fortuna Ah, più tre No Venti rete senza elettricità Vabbè, si può cambiare poi Per le modifiche Ci guardiamo Nota Antam Tradotto dalla lingua Cunari Le istruzioni sono le stesse Usate le reti Per portare il drago a terra E i rampini Per ancorarlo al suolo Fatelo per la gloria Degli Antam Cunari che poi C'era anche Lo sbaglio Anche in Mass Effect C'era Simili, ragazzi Simili Siamo sempre Simzalabim Sotto maior C'è a fare Allora Harding Mi riesce ad indebolire Ma scusa Harding Non poteva indebolire Frantumazione Oh Frantumazione E Vabbè Vai così Si Perché poi Le loro abilità Ci permettono Anche di fare Più danni Quindi Sia indebolimento Che frantumazione Barocca Un attimo Le difese Faci di ero Logora Oggi è giunto L'ordine Abbandoniamo La fortezza Niente più Proleoscura Troppo costosa Da mantenere Non posso Crederci Quel che è peggio Topps È stata riassegnata Al maledetto Ferelden E io finirò A Waysaup Non so Che cosa farò Siamo Topps E Mel Insieme Dai tempi Dell'unione Maledizione Maledetto Ferelden Non possiamo Maledetto Lì Questa Stavolta Niente Sei buon caso Allora Che cosa farò Che cosa farò Che cosa farò Che cosa farò Guarda stupida Buttana No Fai Ai 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 aspetta aspetta allora qua sopra ci sarebbe anche sto coso da prendere ma onestamente non so come ci arriviamo da là che ci si arriva da dove aspetta un attimo perché mi sa che qua c'era un recuperare una cura ok allora dovremmo trovare il modo di salire da qua sopra se c'è magari senza eh no qua scendiamo però va a vedere se c'è un modo perché non ne vedo non ci serve no va bene arrivederci ok potevamo coglierli di sorpresa ok i brought her down she's mine by right ma cara mara namra benari e bala atash marta rost asit tarala cute mo l'ha sbloccato il rutto quindi ecco perché prima non ce lo faceva usare non lo so cioè nel senso lei ce l'aveva ma magari ancora non lo conoscevamo noi come come perto quindi aspettate facciamo prima così e poi facciamo diretto così ok bravi mamma mia così la mia bella è una bella mamma cara di morano ok 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 attimo ok 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 come se ho fatto una fortuna che ha giudito boom Volevo recuperare la salute. Quindi, hai scopato il fogo. Sì, ma... Come? Cosa dovremmo sapere? Perché non ricordo che tu lo raccoglie. più che al pozzini al massimo ma come non c'erano due probabilmente perché adesso ti fa fare la strada forse anche al contrario per i donno va bene vai libera il dragotto as one dragon flew off now safe to finish its nap uninterrupted another was about to wake up the surviving on tom poachers carried news of a fire-breathing kunari back to their leader tosh and the team would soon find themselves being hunted by the dragon king wonderfully done tosh while you played with the big scary dragon we looted the shiny stuff from her cave so rook varix talked about you i see he wasn't making shit up this time they call me isabella among other things what did you find in the cave a lot of dragon shit gold some fancy trinkets and this it almost looks like a room does it do anything shit i hope not it conveys knowledge well not as impressive as a magical explosion it can still change the world this is she found she's our expert on canari artifacts this piece predates the steel age by centuries comes from an earlier attempt at settlement one that left no survivors you used your fire what no were you seen by the on tom are you promised you would be careful at the touch you need to be away for a while it is good you are joining rooks team i'm what a poter cacciare i draghi we expect some dragon trouble so we need a dragon hunter you'll feel right at home are content here said you'd agree to join us didn't she thought i thought you and your mother had agreed on this evidentemente no whoops well you'll work it out you always do for gold and glory tosh you're welcome back whenever rook pleasure doing business with you mother what did you do i thought you would enjoy the chance to work with rooks team do you not wish to stop these blighted dragons of course i do i might have decided to join on my own maybe after you talk to me i talked to you about not using your fire in front of the on tom i will prepare potions for you to take would you prefer ginger or lavender the ginger hassan vinek rook you will keep her safe è lei che ce le pare il culo però più che altro she strong-armed you onto the team just like that huh looks like anyway welcome to the team might not be what you wanted but we could really use the help i'll get my stuff hey it is sorry joining your team it is what i wanted glad to hear it eh ma dai che si diverte si diverte andamma a caccia dei draghi ce ne stanno due che dobbiamo andare a recuperare the on tom hate magic they always talk about how much better kunari are than everyone else now they worship elven gods for power hypocrites but it explains why they pushed so hard into ravain with this demetta's crossing and the blight of dragons and everything else we're all dealing with feels like we're at war a lot of little wars they want a war we'll damn well give them one you need an army to fight a war though they've got two the venatorian on tom wasted no time allying themselves with the gods power at any cost so how do we fight back then we don't have an army but we do have allies like the veil jumpers after demetta's crossing it's personal for them the shadow dragons i should have earned my way back into their good graces after we saved minrathis taquin won't ever admit it but he was impressed also lady morrigan requested a meeting at the cobbled swan in minrathis could she have found some trace of the gods probably morrigan doesn't visit crowded taverns for fun i also heard from grey wardens out in the hausberg wetlands Antoine and evka something strange is happening with the blight there i bet it involves the gods any details on the blight in the wetlands Antoine said he didn't write it down why not either he didn't trust someone else wouldn't read the note or he didn't want us to panic gillanane has laid low since we heard her dragon but the blight spreads rot wherever the gods go and no one's better at tracking blight than wardens morrigan and those wardens feel like our best leads on finding the gods are they really gods? or just ancient mages? it's not clear they're gods in their power and wrath at least lucanus you're back i am good to have you back this is professor emrick volcarin our fate expert and tosh our dragon hunter they joined while you were away hey chummed right not everyone has met so a dragon hunter treviso could have used you what's happening there? hmmm it's just people blame you for what happened to treviso roc but they did not have to make that choice knowing what the gods are capable of there was no recall still it changes things how could it not but you're back with us yes here to stay good to have you back whatever the circumstances everyone needs to be a part of this that's the only way we'll win after what they did to treviso i want these gods to fall i don't see anyone else with a better chance than you my blade's yours until the end great let's follow up on some leads i'll let lady morrigan know we're ready to meet i'll send word to antoine and evka they hold up in a town called lavendel everyone else should rest up be ready to move when i call never easy is it kid what do you mean? making the big choices then living with the consequences vai qualcuno deve buffarlo if i don't make the tough decisions no one else will so why live with the consequences and you don't blame anyone else for them that's why i recruited you anyway you've got a meeting with morrigan to attend and dealing with whatever the wardens found all this chatting has taken it out of me think i'll rest for a bit good work rook you'll find your way through this i know it ci proveremo insomma al momento direi che allora tasha un ammazza draghi con aria ha tirato un drago fuori dalla sua tana con l'aiuto della squadra per dare modo ai suoi compagni signori della fortuna di rubarne il tesoro quando i bracconieri hantam hanno tentato di prendere il drago sedato e dormiente tash lo ha difeso e ha rivelato la sua capacità di sputare fuoco così tash si è unita alla squadra e gli hantam superstisi sono tornati in corsa dal loro capo il re drago portando notizie di una rara kunari sputa fuoco allora compagno diffidente lukanis è diffidente dopo l'attacco del drago corrotto a treviso lukanis si sente meno sicuro dei propri mezzi le sue capacità di danno sono aumentate ma non userà più capacità di supporto e i progressi delle relazioni saranno rallentati ah ok vabbè e vediamo possiamo andare a parlare con la tipa e con con allora abbiamo la darwin che ci dica c'è qualcosa e basta sembra di sì oh ho sbagliato strada su di grigio incontrare morrigan ah quindi una delle due intanto andiamo a parlare con la nuova arrivata poi vediamo vediamo no in realtà no siamo passati per allenarci ah non è lei che c'è aiuti per treviso ehi tash stiamo cercando di far arrivare delle scorte per i corvi a treviso ma quelli che dovevano venire a prendere il carico qui a rivain non si sono visti se tu e i tuoi nuovi amici avete un po' di tempo potreste dare un'occhiata il punto di consegna era sulla costa per l'oro e la gloria Isabella eh oddio magari questo boh poi qualche aiuto a treviso magari lo diamo pure però andiamo a vedere se allora non so in realtà se possiamo livellare o meglio infondere altre cose perchè la c'è la metto che fin quando non livellavamo non si può fare ma scusa se io allora noi adesso abbiamo incantato anche cose che non abbiamo attrezzato giusto tipo questa ah no ok no perchè volevo vedere se magari era possibile toglierla da qua che magari no quindi è limitata vabbè stili assi non abbiamo la possibilità di farlo allora dove sta qua a destra Darwin a Darwin dica e poi l'ho sempre chiamato Darwin ma in realtà è D'Avrin perchè Darwin mi suona meglio io lo chiamo Darwin si no mo stava a vedere ho detto no 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 in realtà non è vero che stia a Darwin Darwin e perchè loro lo dicono pure velocemente quindi non ci fai caso se non lascia fare armi più grandi più potenti anche se si 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 no, 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 no. Vabbè si impara a strada facendo Arrivederci caro Ok Allora io direi a questo punto Per oggi di continuare con la missione principale Sempre come ho detto andiamo un po' più lunghi con gli episodi Eeeh Ah dobbiamo parlare pure con Il maestro C'è una chiacchierata anche con lui E poi Augusto di Grigi o Morrigan Vabbè non so se una esclude l'altra in realtà E' un po' più lungo E' un po' più lungo E infatti pure noi Animate the dead Their drive revives the corpse Yet the corpse Colorsi their actions Thus the eternal question Are undead Inhuman spirits Puppeting a body Or does some shade of the departed return Eh Eh Dilemma 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 Of recognition Of something more In the dead Hey that's my sleeve You're trying to steal my buttons As well as a certain mischievousness Manfred Ok 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 Allora Eeeh Decidiamo Decidiamo Anche perché pure qua Dobbiamo capire se Fai il crocepepepeh Incontra Morrigan Non bisogna altre prove Da mostrare Al primo custode Vai Andiamo con questa Dai Eeeh Dopodichè Ci spostiamo Al distretto del molo Yes Mmm Eh Adesso è Difficile scegliere Perché ne abbiamo di nuovi Diversi Versa l'indebolito Mi sa che questo Nessuno Perché ha detonazione Tutti quanti E ha bersato l'indebolito Ma nessuno Che l'indebolisce Non lo so Se portarmi Tash Vabbè Facciamo una cosa Proviamo Tash E Embrick Dai Massi Proviamo Proviamo Poi Facciamo un po' Di combinazioni Ci può stare Eeeh Dove è che era Ah non Stava di qua Il Prendate Siamo la porta Per mercato In curiosità Noi Te Altri lampadari Trovi Per favore Non l'avevo notato Non l'avevo notato Difesa è bassa Questa Io lo faccio Solo perché Non si sa Che Mai Che poi Un livello Tre Che poi Vabbè Puoi ritornare E migliorarlo Però Il livello Di moneta Aspetto Va bene Va bene Va bene Questa è un'altra Missione Però Questa che missione Qua Ah la missione Di Morrigan Studio del distretto Del molo Rivela Di Morrigan Di Nib Rivela un po' Di sé Durante un viaggio Nel suo quartiere Il distretto Del molo Incontra l'anima Al distretto Del molo Qua Altre Missioni Eh Non vorrei Che poi Partano Altre cose Un po' Troppo Randomiche No perché Poi penso Che ci Boh Eh Comunque Un'altra Missione Quindi Vabbè Dai Guardi 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 Però non sia Una rottura Di coglioni Una chiacchierata Qui nel suo quartiere Che ci rivela Qualcosa di lei Vediamo Vediamo Poi Facciamo le altre È complicato Diciamo Amore e odio Già No No I Don't Ne An Honest Answer I Can Barely Keep Things Straight As It Is And Minrath Is Doesn't Make Things Easy Come on There's Paper Sellers All over Here Wanna See If They Got Your Name Right Eh, quelli che cercavo quando stavo a fare la ghiacchierata all'alfaro Oh no Spettacolo di canto e contorsionismo, stasera l'umile lampionaio Allora, drammi di palazzo, l'arconte nasconde dei segreti Sono sorti i dubbi quando l'arconte ha lasciato il concilio all'improvviso Ma quei dubbi sono precipitati subito in un abisso di speculazioni prive di fondamento Diversi magister mi hanno contattato per assicurare ai miei lettori l'infondatezza delle voci di una possibile influenza cultista nel palazzo Vai andiamo al prossimo Preso, preso questo, posso mandarlo La voce del porto, allora verità o fantasia? Non si contano le storie che circolano attorno alla figura mascherata che veglia su Minratus Mentre c'è chi mette in dubbio l'esistenza della cosiddetta vipera, una sola persona o più persone Crescono le segnalazioni di avvistamenti della misteriosa figura in tutto il distretto del Molo Tra piogge di demoni e problemi quotidiani, molti apprezzano la sua presenza La pergamena del mattino Sperate nel movimento anti-schiavitù? Le voci di una ribellione riuscita a Marna Spella hanno raggiunto le strade di Minratus Alla luce degli angoscianti rapporti provenienti da ogni angolo dell'impero La notizia dona un barlume di speranza a coloro che continuano la lotta nella nostra capitale Ho un contatto che funziona questa area, vediamo se è vicino Hai un buon armi? Non mi sembra che non mi sembra che sia buon amico, non mi sembra che sia buon amico Non mi sembra che sia buon amico, non mi sembra che sia buon amico Vai, prendi un po' vicino Ok, il charme è buono contro tutte le mani di cursi e manipolazioni E non mi sembra più in la circolazione Non mi sembra più in la circolazione Non mi sembra più in la circolazione, ma si dovete offi la docks For half the price and twice the enchantment Nev Eleg Oh, se ti dicono, è... Grazie, io passi Ma, se ti senti, io ho detto Come back next week, i'll buy another paper I write them myself The Magisters They don't print the truth Most honest thing I'll hear today What about you? Is this something you're buying, my friend? Rook And no But I've got a Treviso Manor in need of tenants If you're willing to pay up front You know, I've made that one work Can't go back to Voldorma though What about you, Nev? Just looking for gossip Not much that I'd interest you We chased a relic through Doctown The buyer was Venatori But the smuggler belonged to the Thread Crime Syndicate You're a Thread We don't deal with cultists Your smuggler broke the rules She's out And the Venatori There's been more in Doctown Boss says it's under control But between us I don't like it Then it's worth keeping an eye on If you hear anything So will you You know a member of the Thread Crime Syndicate Personally Don't tell me you're surprised That doesn't get complicated What isn't I've heard some people have their shit together They don't Some just keep it hidden And others make the papers Let's go If we want more gossip we need more papers Let's head to the south side Okay Okay Sì è una di quelle missioni Un po' una rottura di cazzo Sì perché quando vai ad approfondire La storia dei tuoi companion Va bene Però Anche il modo in cui si fa Vabbè è normale questo Per il genere Però Ci stanno sempre quelle missioni Un po' più Noiosette Insomma You've been An investigator for a while It's not a short story You've made it this far Is there a secret? Trust people enough to get things done Not enough to get killed Sounds simple enough That's it Allora il canto della sera Quali seg... Il canto della sera Quali segreti conteneva la scatola dipinta Riusciranno i nostri eroi a scoprire la verità E vorranno farlo davvero Leggete qui il nuovo capitolo De Il coltello ritorto Ecco questo lo possiamo portabellare Eeeh 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 Attenzione Lamparano E sto dicendo Un bello fidale di lamparano Quanti Eeeh 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 Iniziano a costicchiare Allora vabbè questo Mettiamo questo Minendo 3 E questo Ma questa c'è la posso non evitare Ma questa c'è la posso non evitare Eeeh Eeeh Ma vede una cosa Tra Quelle che abbiamo Allora abbiamo preso questa qua migliorata Che però è peggio di quella Che è rimasta comunque ancora lì In top utilità 20 danni Va bene Questo anche per prenderli Eeeh Non abbiamo granché Eeeh Va bene Andiamo più all'altro giornale Però dobbiamo passare all'altro lato C'è un altro qua mercante uno di fronte all'altro Che si fa così 100 salute Attenzione Lo prendiamo Dovesse servire Questi sono gli aspetti E questo Ok Circle District Gossip Read the latest Scandal and Enchantment Read it here first Paper Thanks Il segreto dell'impero Allora uno scanda Una Una Scandalosa storia d'amore In divenire Quello alla Moneta d'argento Era un importante mago del circolo Lo stesso mago del circolo Noto per la sua frequentazione Dei giri di scommesse Più interessanti Del distretto del molo E chi era il loro amico misterioso Quando otterrò risposte Caro lettore Le avrai anche tu Quindi è Una grande edizione Questa è proprio una giornata con Neve A spippola La giornata Un po' di street food Eh? Yeah Eh Ehm 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 Bye bye Ehm Bye bye The lighthouse doesn't have this What? A view of the water I don't know It helps me think But We've got places to be Come on You You This fish won't need itself I I I said next time you were here it was free Sure thing Hal Next time Yeah 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 It's always something Scosticchia però Ha pagato un bel sacchettone Ha dato tutto il portafoglio C'è una prelibata C'è una prelibata It's worth taking That's what I tell myself This one was The rest We figure out as we go Farak said this job would end with Solas We'd stop a ritual Then I'd walk away But those gods escaped Not much of a win And if the world falls The city goes too It's not like I'll find work then Is that why you said yes? To save Minrathus? People will tell you Minrathus is broken And they're right It's corrupt Petty Saving the world won't fix it I take the small wins, Rook Hal's serving fish another day Getting past the next scrape alive Sometimes you're lucky Sometimes you get more But the tables always turn It's better if you know it's coming We got in over our heads Didn't we? Same old story The gods weren't a twist? I've seen worse Then I'm glad you stuck around Misery loves company Ok Vabbè, dai Un po' una cosa Ciò devo andare a recuperare i giornali Così così però Li va recuperato le ultime notizie Il distretto del Molo Ha incontrato il suo contatto nelle catene Alec Punti sosti Aspetta che abbiamo un peccato Cioè aumenta la rarità Ah aumenta la rarità Perché già ce l'avevamo Ok Ehm Costui le ha detto che ultimamente ci sono più venatori al distretto del Molo In caso di novità le riferirà prontamente a Niv Dopo un pasto al suo chiosco di pesce preferito Pesce fritto preferito Niv ha rivelato che i suoi lavori tendono ad andare storti Quindi si aspetta il peggio e si accontenta delle piccole vittorie Onesto Poteva andare meglio ma poteva anche andare meglio Allora tornando a noi stavamo facendo la nostra missione con questa qua Fatemi capire se Ah ok siamo arrivati comunque da Morrigan Nel mentre che facevamo la nostra missione Ehm Scusa Sfumature di corruzione incontra Morrigan al cignolo astricato parla con Morrigan Ok Certo Sfumature di corruzione Questa è Inquisitor Lavellon, la donna che lede a tutti noi. Quali famosi persone conosci, Harding? Devo aspettare che la Divina si arriva? Lei ha servito anche nella Inquisizione. Ma non parlavamo molto. Morrigan e Harding hanno raccontato cosa hai avuto dopo aver guardato per Varic. Hai insieme un'impressiva, e hai la possibilità, magari l'unica, di stoppare Elgannan e Ghilanain. Eh, poi è tutta colpa... Eeeeee... È tutta colpa sua! Eh, scusa, eh! Eh, ma a botte! Ho raccontato un problema. E nel fare questo, ha creato molte problemi nuori. Molto dei leader che accettano la credenza, mentre evitare la responsabilità. Non sarò uno di loro. Quindi... Rook. Sto chiedendo a te, per aiutare la scuola. Ok. Eh... Ehm... 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 Sì, è un esercito via Lanza? Che magari può far comodo. Ehm... 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 A posto. Ehm... 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 Eh sì, che non è che mi fidi troppo, però, eh. I appreciate it. Solus has been helpful while he's trapped in the Fade. But anything that can help me get inside his head will help counter him getting inside mine. Wisely spoken. Solus rarely lies directly, but he finds ways to weave the truth into a noose you find yourself wearing. Solus was... Important to me. If this statuette helps you understand him, if it uncovers something that... Honestly, I don't know. I wish I did. But this feels like a part of him. And whatever he and I once were, I think... I hope... It might help you. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Harding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you. Ok. Aggiungi le p... Travele il crocevio e il viaggio rapido. Va bene. Adesso facciamo anche questa... Se riusciamo... Paludi... Vai. Impaludiamoci, signori. Facciamo ancora un pochino, dai. Come ho detto così, almeno... Spipoliamo che mo' con tante... Con bari uscite poi si accavalla un po' tutto, quindi magari facendolo un po' più lunghi non ce la portiamo troppo in là eventualmente però apprezzate il fatto che la stiamo stipolando comunque la stessa Forse è chocato l'area, e la località, Lavendel, è stata incontrata in l'area, ma ci sono survivors, possiamo essere grattati per questo. Vabbè, ho detto che cose erano diversi. Siamo. Siamo cercando di provare la stessa cosa. Per quanto possiamo dire, i dottori che tu stai chiesti non sono qui direttamente. Se la blight ha cambiato, i cambiamenti sono spostati. Per quanto riguarda? Mi posso sentire qualcosa in là, un altro sonore, sotto la blight's usuale sonore. Stori dicono che guardi sentono la blight, non ho mai pensato che fosse vero. Ci succede quando hai chiesto la ordine, ma è più di quello che devo dire. Quando ci siamo riusciti, hai cercato di blocare la sonore. Ora, hai chiesto molto. Se ci aiutano, è quello che stiamo qui. Ok, questo si tratta di vero, e stiamo stondendo nel medio di questo, che non è nascita per me. Ha, per noi anche. Quindi, qual è il progetto? Abbiamo ascoltato delle scuole di una scuola qui, e ho volentato per risultare. Il primo guarda chiede un rapporto, in pronto. Se non vogliamo provare che la blight ha cambiato, allora questo posto è dove trovare. E sarà uno schifo? Eh, andiamo. Ci sta, ci sta. Allora, distruggi le bolle corrotte. Aspetta che qui davanti, ma da qualche altra parte, ecco, passando da fuori forse, c'è un teletrasporto. No, almeno lo segniamo, qualora ci sia utile. Ok. E poi andiamo verso l'obiettivo. Lo spingete, eh? Prego. C'è anche un mercante qui dentro, ma... Per fare un'occhiatina, giusto per... Allora... Cinta rinforzata a due, cinta rinforzata... Ok, vediamo. Non so se è quella che stiamo già utilizzando, però poi andiamo a vedere. Porta fortuna per lui. Va bene. Andiamo pure questo. E' questo che ci serve per potenziare cose. Uno ne costa 145, sta minchia. Questo che è un regalo? Dono, sì. Mettiamo pure il dono. Questo non ci interessa. Ok, allora. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Abbiamo... La cintura era per noi, mi sa, sì. Cura comunque è più bassa. Però abbiamo più 10 resistenze. Ah, perché ora no. Teniamo la nostra. Poi che avevamo preso per i compagni. Per Darwin, mi sa. Porta fortuna, ok. Questa no. Abbiamo preso qualcos'altro, non mi ricordo. Sì, lo scudo. Mirch, 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 mirch. E' vero, l'arma li avevamo preso a lui. Che però è peggio di quella che c'ha. Harding, come sta messa. Bene. Abbiamo preso il vestitino. E tascia... Niente, credo. Parte punti abilità, che vabbè, poi. Poi, come sempre, quando ne accumuliamo un po' li diamo. Però adesso andiamo a lavorare, andiamo a lavorare. Oh, vela. Eeeh, che agilite. Beh, vabbè, intanto attivami... Sì, attivami una missione secondaria, che poi magari... Magari un sogno premuritore. Ah, eh. Avevano previsto, o sapevano qualcosa che gli altri non sapevano? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Vabbè, come ho detto, le altre mission se le attiviamo, intanto. Contrario. Of what? I heard something from up at Gaspin Manor while I was escaping here. The place has been abandoned for years. They say the Lord had some cursed treasure. One day he just disappeared. Could the Blight awaken a curse? If it draws evil here, the treasure's up there somewhere. It should have been destroyed. Okay. I wouldn't be surprised if damage from the Blight stirred something up. Grab the treasure. Break whatever curse is on it. Done. Eh. Vai, vai, vai. Vai, vai. That's our Blight Boyle. Not a sample. I'm guessing they'll need more than one. Multiple samples improve the accuracy of any study. Unpleasant, though, the gathering process may be. Fine. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non Qua c'è nient'altro a raccattare? No Ho il sample I bagarozzi li posso beccare magari con il tempismo dalla distanza Non so che devo andare dall'altra parte però voglio comunque esplorare un pochino Anche se forse non è proprio la zona da esplorare questa Pensiamo a raccogliere i campioni che ne so comunque cinque signori Se no veramente se qua ce ne andiamo a lasciare Però questa vedi sembra una zona un po' più Dov'è la mappa? La mappa Grandicella sempre tra virgolette però Magari Qualcosina ce la becchiamo No però non sono asfaltabile Un altro sta qua sopra No? Quello è che è stato riportato da un altro Vediamo da dove si parte Questo è quello originale Non è l'unico Fuggo da un ufficio Benatori Barrier Crystals Chiunque che veniva così non voleva essere seguito Recentemente posizionato, se non mi ricordo C'è quello che facciano nel bosco di Haasberg Se io pian piano mi rompo i cristalli Se può Non ci siamo allontani di abbastanza Vediamo prima Qual è il primo di questi però Mi sa che è proprio lui da rompere Tutto quel casino effettivamente era lui Che non era più coperto Questa dove sta quello Quello sai che cazzo Quello assolo Fa peccato Ero nell'area Non l'ha rotto Quale ci si dà A posto Non si vuole tutto il suo bordello Per il prossimo Allora Noi stiamo andando qua Indaga sugli strani avvenimenti A Villa Gaspin Vabbè Perché ad occhio stavo seguendo Il coso blu Ma in realtà L'altro Vabbè però sembra figa la zona Quindi magari Potrebbe essere In realtà Che idea Fa una Fa l'altra Fa in giù Dove si parte qua Tutti attaccati Ma cazzo Non c'era un'origine Allora Due Due Eeeh Addirittura Ok Ok So Aspetta che c'è Questo Da qui Ok E golloni Ah, c'è una guarda Ah, c'è una guarda L'abbiamo fatto Allora, aspetta Qua prosegue la mission, però aspetta un attimo Perché qua sopra voglio pure capire se c'è Comunque altra roba da raccattare Già che ci siamo Possibilità Codi grifone Mettigliela va Caricagliela Qua sopra Sembra intrigante questa zona Così più dark mi intrigano di più L'amo come ci arriviamo Da quel ceppo Ma su quel ceppo come ci arrivo Appunti di ricerca Ho trovato un luogo segreto sotto la villa stessa Sigillato Ma come potevo fermarmi Ora che manca così poco Mattoni e cemento non sono nulla Quanto alle barriere di origine più magica Disattivarle non è mai stata la mia specialità E la trama di questo incantesimo è unica Ma questo non fa che dimostrare i miei sospetti Ormai manca pochissimo Eh aspetta vogliamo vedere se Da qua riusciamo a salire E andare a sbloccare qualcosa E abbiamo fatto il giro no? Va bene Cosa c'è la c'è la c'è la c'è la c'è la c'è? Questai che siamo qui Tuttavia рассmrere i miei sospetti Questai che siamo attentriano Che assurarsi La mia gente non è stato Ma guarda Io ho avuto La mia gente non è fatta Nella estaban Ewwww Quante ne mancano? Una? Ok Più 100 salute Va bene Sti altarini pure Ne abbiamo trovati pochi In realtà Fino a forse due soli Mi sembra Così del genere Ehm In tutto ciò Volevo trovare la strada Per andare La Praticamente C'è una scala Ma come cazzo Ci arrivo Cioè E' quello il problema Se non ci arriviamo prima Non ci arriviamo Manco dunque Mamma Questa si può fare Vuoi andare nelle Underfell Accomodati Porta chiunque sia così stolto Da seguirti Se vuoi inseguire una qualche teoria Ingarbugliata Fai pure Puoi tornare in qualsiasi posto Desolato Tu desideri Ma non ti aspettare da me Ne interesse Ne aiuto Elia Allora Nulla di interessante Nulla degno di nota Che cosa sanno Nessuno ha studiato Le Underlef Come me Credo non mi interessino Travi Architravi O qualsiasi Feccia usino Per deridermi La villa Ha un valore Persino ora Di certo Messer Gaspin Avrà trovato Più di un Semplice tesoro E quando Donerò Questo potere Perduto Alle divinità Rinate Nemmeno Elia E Zara Saranno All'altezza Del mio prestigio Research Notes This man Wanted Lord Gaspin's Treasure To impress Elgarnon Mi date una mano Pure voi A sfornarlo Che Che ehm vai Ehm, in un momento anche noi dobbiamo dare l'attacco Allora, guardate l'attacco Allora, recuperiamoci un po' di saluto Aspetta, lui, 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 sbilanciato Ma che cazzo, paio, è quello che è il giallo Ah, ma che cazzo, paio So, the Venatori want a treasure They found a sealed demon A powerful spirit at that I'll write to the Mournwatch about it Let's look around Mmm, bye Ultima missiva La porta, tutti quei giorni, quei lunghi mesi Per questo? Ho fatto Abbiamo un accordo No, io, noi abbiamo quello che vogliamo Noi, no, sigillerò la via Non posso Aspetta Eh, non so se dobbiamo andare a ritarlare Poi col tipo per dirgli Che l'abbiamo fatta, però Va bene così E mo' andiamo Proseguiamo nel prendere I campioni Qua si può Non so se dobbiamo Non so se dobbiamo andare a ritarlare Stiamo giusti? Il bimbone è un mio caro è flotter L'abbiamo Non so se dobbiamo andare a ritarlare Ah, cazzo Non pensavo Non me lo aspettavo E' niente Non ho fatto in tempo a fare niente E' sì Non posso neanche rianimarsi Spero che abbia salvato da poco Vacca di quella troia L'edizione Sì ok Vabbè lo spawniamo dopo questo Prima liberiamo la zona Non viene Non avere gli altri In mezzo alle palpe Non mi piace Vabbè Non mi è Non mi piace Vabbè Non mi piace Non mi piace Non mi piace champion aspetta aspetta arrivo subito ok che faccio lo lasci ecco allora adesso questo dovete spawnare forte no no merda non 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 o per carità però magari facciamo un po' di esperienza beh poi facciamo via 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 possiamo dire ma che cazzo è? ma com'è possibile? aspetta che la nuova di proprio la barra arancione non so bene non so bene non so bene vabbè vabbè aspetta 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 che ho da prendere delle cure da un'altra parte signori stavano qua prima uno ce ne sta cazzo e due vai no 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 lo sto abbandonando tornate tornate rientra 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 la rios rio il Sì non posso neanche girare vabbè si è troppo livello 30 va bene dai dai abbiamo perso solo tempo veloce veloce mi rompo il caffè fanculo però stavamo là che fai non ci provi no non ci dovevamo provare ci abbiamo riprovato ci abbiamo perso tipo mezz'ora ma va bene uguale dai e da dove cazzo mi fai ripartire no dimmi che almeno la cosa l'abbiamo fatta no lo vediamo ci si va vabbè questo ce l'ha lasciato da qua beh questo penso sia per prendere il il tesorino qui suba eccessivo ma perché sono saltato perché è proprio eccessivo allora dove si va andiamo dietro ah se no stiamo seguendo tutte queste cazzo di concine seguiamo la nostra e basta signori per piacere no ma c'è un mille mila missioni nel mento questi ne abbiamo i nostri eroi a raccogliere stridosi qualcuno che vuole di palpebre allora intanto raccogliamo questo eh attiratemelo dall'altro lato quindi che cazzo l'abbiamo a fare sta cosa ah no però fa quasi tutto il giro buttatelo di là va f***o va vai spostamelo un po' di là però va f***o vuole andare un po' più in là e spostamelo un po' di là oh no si 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 vediamo noi ci abbiamo proprio sui vai ahia mazza che botta no no eeeh vada va bene uguale rimani così no 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 ecco adesso un po' di là ah vada guardate così così oh 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 ah no aspetta che cazzo era uno scudo ma era per me eh non ci ho fatto caso era il livellamento di questo mi sa giusto boh penso di si però comunque no e and another sample that must be enough for an analysis yeah let's get back to evcon antoine eh ah aspetta che ci stiamo accattiamo cose e poi sediamo che per oggi abbiamo dato abbiamo dato abbiamo dato anche se là non so cosa sia facciamo qua voglio saltare da o ah eh e ok 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 non lo so eh stiamo aprendo qualche strada o no ci devo arrivare da ci arrivo da ci arrivo da non ho capito capire gli ingressi di sti baracchini tu potevi avvisare però non è uscito questo da qua kit raro di cintura e perchè non me la faccio cintura caparbia kit di tintura ok non funziona ma perchè siamo in combattimento allora forse non lo so ma non sta funzionando ok cosa ci indica allora io voglio cercare di capire come cazzo arrivo là dentro da là sopra però non si passa o sbaglio non riesco proprio a capire questo pure l'avevamo fatto forse da non era completamente spawnato ah questi non avevo ma scusa ma non si capiva un cazzo ma scusi un messaggio di famiglia ho incontrato un amico vicino al pozzo ho bussato di sopra ma la mamma dice che non si sente ancora bene tornerò per cena se faccio prima di te dai campi inizierò io poi abbiamo liberato un po' la zona è prestato un po' di gente però fiero di miglia boss eccomi qua su avevo bisogno di riflettere senza che mi guardasse attraverso i suoi occhi riesce a farlo lui è giù nei campi dice che sta arrivando la corruzione tra tutte le stranezze del mondo ma è pronto deve solo continuare a scavare più tardi è arrivata Ursa ma c'era qualcosa in quel che diceva avrà preso anche lei ora la porta è chiusa dall'esterno quando è successo sento dell'acqua che gocciola non riuscirò a uscire in tempo non lo so però questo è qua finire sta missione non è finita però se c'è qualcosa qua nei paraggi o meno sì questo non ho capito dove mi voleva portare ci stiamo vediamo con questi messaggi allora un eco risponde sempre e ascolta sempre come ringraziamento per aver rimosso le assi si assicura che io sia pronta niente deve per forza cambiare i giorni non devono cambiare papà sarà nei campi e mamma si sentirà meglio anche la sua voce è nel pozzo ora dobbiamo soltanto preparare tutto prima che arrivi la corruzione aveva ragione sugli uccelli morti ha ragione anche su quello su questo questo eco ha fatto promesse e poi pensi che si è fatto tutti oh no no Oh Non l'avevamo già spondato Ricordo La combinazione Sì Rivi nei campi Scavato nel campo a sud Scavato nel campo vicino Da non rifare Proseguiamo Urlato Un desiderio In un pozzo Che lo ripete Basta Controlla i campi È lì Lo so che ha ragione Non posso ancora andarmene Scavato nel campo a sud Scavato nel campo vicino Scavato nel campo a sud Molto bene Non mi dico che il messaggio sta qua dentro Eh no No Non credo che Aspetta Vediamo Sconfiggi il campione No A me serve quello dei messaggi Ah Si giro nel pozzo Ma l'avevamo già visto Quello Buttiamo nel pozzo Non so Adesso ce l'ho sbloccato Non so Nemmeno Alla Naceprida Non ti besi Niddi Ma Nipi Schifo 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 Ok Cosa è campione Allora andiamo a parlare con quelli e poi Andiamo a parlare con quelli e poi Vediamo un attimo la situazione I'm excited to travel together Tarsh I've heard such stories about the Lords of Fortune Don't touch me if I die I beg your pardon Don't do weird magic to my corpse I assure you Andiamo giusti? Si c'era Solo un eco e questo era quello della villa Giusto? Si Penso semplicemente per concludere le missioni No death magic Rook gets my body if I die I what now? If that's what you wish The Voss family? Did you find anything? There was something in the well It got to them But we aren't supposed to listen The stories But it was sealed We sealed it again When it's safe to go back I'll bury it even deeper For Ursa Thank you For letting me know Ok Andiamo a concludere anche l'altra qua sotto Al vent Al vent Rook Always good to see people return Means they're still alive We went up to Gaspin Manor You did? And the curse? Was it... Did the blight wake it? Less the blight and more like some venatori There was a demon haunting the manor We stopped it Well, we all knew something wasn't right And thank you That's one less evil to worry about Molto bene Molto bene Andiamo a concludere anche Questa Eh? No Di qua Eh non c'è Un po' altino Ok Rade Antoine Antoine Sì Ah, sì The blight samples They're like nothing we've seen Or anything in the warden records And I can I almost hear voices in it The gods calling the blight I can't hear anything But if you believe me We knew things were bad But if the blight's being called The situation's more unpredictable than we thought We need to I give you two rain and this is where it leads Chasing rook's lies First warden Stay away from the blight and the wardens How many times must you be told? Do you think titles and blusters scare me? And your venom is better directed toward your magisters Rook knew something was wrong I can hear it in the samples The gods He's telling the truth The blight has changed And that changes everything It changes nothing Your sensitivity to blight is useful, warden Antoine But you've had more than one snake in your ear Why listen to the experts? You've clearly got this handled That's enough from you You tampered with a ritual that unleashed blight You did not know what you were doing then And you don't now If gods control the blight We need to change how we approach it Archdemons control blight And we'd sense if one had risen We'd make the sacrifices needed to fight it But we... The blight has increased Now is not the time to lose focus Wardens Evka and Antoine Are you sworn to combat the blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so That went poorly Even for a talk with him What an asshole A lot of people are gonna die for his arrogance Maybe So much for convincing the wardens We can't give you the order? But you have us We'll keep tracking the darkspawn and the blight We'll do what we can And if we learn the gods plans You will too Okay The elven god of monsters had been hard at work She'd taken the darkspawn and made them so much worse Now she and Elgarnon had their glorious new army The risen gods were ready And they had just the target And they had to take it to the darkspawn and the blight Antoine ed Efka hanno promesso di continuare a indagare sulla corruzione e di farsi sentire in caso di ulteriori scoperte va bene ok allora dobbiamo tornare al faro e non so qui cosa ci segna ah direttamente da qua ci fa raggiungi il crocevia scusa è inutile fare tutto sto bordello facciamo direttamente così e buonanotte va bene allora vediamo un attimino se raggiungendo il faro possiamo star tranquilli o se parte qualche ok è difficile ottenere una idea concreta di dove stanno. Rook, se i dottori hanno un archdemon... Wardenlore dice che gli archdemoni solo sono arrivati durante una scuola. Non dice nulla cosa sui dottori di elveni. Parece che le regole hanno cambiato. E noi stiamo scopriando. Dobbiamo sapere cosa stiamo contro. Chiarò con Solas. Vediamo se si chiama qualcosa di questo. Assiedi che gli altri sono pronti per andare. Ok, ok. Ragazzi, direi di salutarci qui con questo episodio di Dragon Age. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra. Spero che vi stia garbando. Lasciate like e commentate per supportare serie e canale. Noi ci vediamo alla prossima. Seguite anche sull'altro studio per il live secondo canale Instagram. Un saluto a tutti da Queltaleale.